Eeeeeeeeeee Cosa sei Michele? Allora, che sta scritto? Come leggere tu, Michele? Sono tensente! Michele, leggi tu, dai Mi Tele! Mi Tele! Mi Tele! Mi Tele E ogni volta che si fai un banco che a tan-meresa un troppo avanzo Probabilità di quel punto forearm La torta che quest'anno è in pratica un omaggio a tutti, siamo al decimo anatore estivo e quindi è un omaggio proprio a tutti questi anni di Grest. Ovviamente perché abbiamo fatto questa striscione? Perché Michele dal 1 settembre, specialmente, si lancerà il proprio di Rocinio pastorale, una patrocchia a Torre del Greco, quindi lascerà questa comunità pastorale per poter poi intraprendere un nuovo cammino a Torre del Greco. Facciamo un applauso per incoraggiarlo. Grazie.